Ciao, sono Paolo di Backpacko e anche oggi parliamo di novità. Come al solito il venerdì mattina vi do il benvenuto al Barpacco, il nostro appuntamento settimanale dove parliamo delle tante novità di Backpacko. Ma prima di cominciare voglio ringraziarvi perché preferite Backpacko. Abbiamo ormai fatto circa sei mesi insieme, ci siamo conosciuti, ogni giorno parlo con i clienti, incontro avventurieri e sto crescendo pure io insieme a voi. È davvero bello quello che stiamo costruendo insieme e quindi grazie. Questo fine settimana sono stato a trovare i ragazzi del progetto Giovani, l'iniziativa di Nello Sgambato, Breda, Il Poligono, Vado la Mola e tanti altri partner, tra cui Backpacko, che prevede un percorso di formazione da zero fino a un livello avanzato nella pratica dello shotgun dinamico. E devo dire che vederli all'opera mi ha fatto venire un po' di nostalgia, dovrei tornare ad allenarmi. Domenica invece me ne sono andato nel bosco a ricaricare un po' le batterie e ho iniziato, perché poi si è fatto tardi, ad intagliare un cucchiaio. Su backpacko.it trovate anche voi il coltello multiuso old timer per intagliare un po', vi procurate un pezzo di legno e vi divertite. Il cucchiaio è uno degli esercizi più semplici e anche un po' più istruttivi, perché devi fare tante cosine, poi lo usi ed è bello. Magari poi lo continuiamo insieme. E devo dire ci voleva proprio una passeggiata nel bosco, ho sistemato l'amaca tra due alberi, ho portato con me dei fumetti, sono stato benissimo, ho ricaricato le batterie. Credo che tutto quello che sono riuscito a fare questa settimana è stato possibile grazie a quelle ore passate in natura a ricaricarmi. Ma cominciamo a sbrigare un po' le notizie che come al solito sono tantissime. Questa settimana in regalo su backpacko.it con gli ordini superiori ai 100 euro di spesa del Fatwood. Questo è un legno resinoso, ve ne mando due stick, due listelli, è molto utile per imparare a fare il fuoco con un elemento naturale. Anche questa settimana abbiamo avuto il nostro KPD 511, ci fornisce un nuovo cappellino, questa volta io direi quasi sull'elegante, perché a prima vista questo è un cappello elegante, è un cappello più elegante degli altri certamente, una bellissima visiera a cammello, la fronte è nera e una patch con stampata la bandiera americana su similpelle. A vederlo così sembra anche un cappello abbastanza serio, ma nasconde un segreto, perché la bandiera americana in realtà è realizzata con dei rametti, quindi cappello perfetto per quelli che come me amano il bosco. Ve li ripeto, anche se ormai 511 ci ha davvero abituati bene con i cappellini, ecco le otto linee di cucitura sulla visiera, invece del bottone scomodo e doloroso a volte, una patta di velcro morbido per applicare anche una piccola patch, struttura a spicchi molto comoda e ha ovviamente i fori di traspirazione, la parte regolabile sul retro, l'immancabile fascetta morbida che circonda un po' tutto il cappello e ci permette di indossarlo con più comodità. Cappellino questo per le occasioni diciamo. E torna disponibile su backpack.it il famoso Rush 24 di 511, stavolta nella colorazione dark navy, beh no questo è il black e il nero, ma trovate disponibile sul sito anche la colorazione dark navy, la nuovissima colorazione storm e tanti altri colori. Siamo giunti ai nuovi arrivi, anche questa è stata una settimana carica di novità e vediamole tutte. Sono dallo scorso settimana disponibili Foxcore a lama fissa, questi coltelli semplici ma molto efficaci e disponibili nella versione flat che vedete qui e nella versione Scandi, è quest'altro tipo di tagliente. Se siete curiosi di conoscere le differenze e le idee alla base di questo progetto, su backpack.it andate alla pagina dedicata ai prodotti e trovate l'intervista a Jasper Box, il progettista. Ma non finisce qui, perché backpack non è un negozio normale, ci piace fare le cose per bene e quindi prima di darvi un coltello, prima di mettere un equipaggiamento in vendita, lo testiamo. Lo testo io, lo testano gli amici di backpack, pacco, chiunque ha le abilità per farlo, ha la possibilità di provare i nostri prodotti, così ci dice un po' cosa ne pensa e solo i migliori prodotti raggiungono le pagine di backpack e poi voi. Quindi un coltello del genere non potevo fare altro che mandarlo al nostro blade tester Henry Garcia. Henry è un grande appassionato di coltelli e vita nel bosco e lavori nel bosco e quindi era il candidato perfetto per provare questo tipo di coltello. Ma perché sottoporre un coltello di utilità che non è un coltello da sopravvivenza, è un coltello un po' tuttofare per un'avventura, per un'escursione, un coltello se vogliamo anche economico rispetto alle grandi lame a disposizione poi sul mercato. Perché mandarlo ad Henry per fare questi test, questi stress test. Ad Henry ho chiesto una cosa, farci capire dove può arrivare questo coltello. Questo è importante perché potrebbe succedere che durante un'avventura le cose si mettono male e quindi ci rimane solo questo coltello per fare dei compiti più gravosi di quelli per cui lo abbiamo comprato. Henry ha messo sotto torchio i due modelli, quello flat e quello scandi, nel suo video che trovate sempre sulla pagina del Fox Core Lama Fissa di Backpack.it potrete vedere tutti i test che ha fatto e i risultati che ha ottenuto questo modello. Quindi ringrazio tantissimo Henry per aver portato a termine questi test. Sono importanti per noi, ci fanno capire dove può arrivare una lama, dove può arrivare uno strumento che a noi può essere anche l'ultima risorsa che ci rimane durante un'avventura dove le cose poi si sono messe parecchio male. Grazie Henry. Vi ricordo che proprio perché Henry l'ha testato e poi lo ha approvato come coltello, come modello, sia il flat che lo scandi, possiamo allegare alla spedizione di questi coltelli la sua patch in esclusiva. Questa patch è un po' la garanzia che il coltello ha superato i test di Henry Garcia. Ma questa settimana c'è un altro nuovo arrivo a cui tenevo particolarmente. Possiamo finalmente riunire tutta la famiglia degli zaini AMP ed ecco arrivare la AMP 12 di 511. Sappiamo che il più piccolo è la MPC, poi c'è la MP10, la MP12 che è lui, la MP2472. Trovate su Backpack.it tutte le grafiche, le informative, i video che spiegano nel dettaglio questo modello e se avete delle domande o volete un aiuto per capire qual è il migliore modello per voi non dovete far altro che contattarmi. Qui sotto il video trovate numerosi modi, saprete come fare, sono sempre disponibili. Quindi AMP12, la famiglia al completo, finalmente grazie a lui. E proseguiamo con i nuovi arrivi, ve l'ho detto che ce ne sarebbero stati. Maxpedition roly poly, sono le tasche ripiegabili di Maxpedition. Ce ne sono di diverse dimensioni, guardiamole velocemente tutte così ci facciamo un'idea dal vivo di come sono fatte. Su Backpack.it trovate tutti i modelli, i colori disponibili e le caratteristiche tecniche. Queste tasche sono particolarmente comode. Ecco, togliamo la patch di Backpack. Per esempio la mini roly poly è perfetta per un analgin da un litro o 320 once. Ci sta benissimo perché la roly poly mini è a pianta rotonda, quindi è proprio indicata per questo tipo di porto. Quando non vi serve, la accartocciate un pochetto qui sotto, la piegate per bene, a seconda di come vi trovate. Tirate fuori la flap e non dovete far altro che piegare un lato, piegare l'altro e iniziare ad arrotolarla. Così vi rimane perfettamente chiusa. E non dovete tenerla in mano, ma potete applicarla ad una cinghia. Se avete una cinghia verticale, con questa ottima clip, vedete che con un attimo si apre, si richiude fermamente. Dovesse servirvi, comunque avete a disposizione, ecco la riempio di nuovo, così è più facile vedere. Avete un passante per la cintura, in realtà ci passa pure un cinturone, è un gran bel passante questo. Oppure potete utilizzare questo pannello PAL collegandolo ad un altro pannello molle con delle cinghiette apposite. Elastico per bloccare il carico e siete pronti per le avventure. Io vi faccio vedere gli altri modelli, perché questa è la mini. Poi esiste la classica, quella che non ha un nome in realtà, la media diciamo, che grossomodo ha una pianta rettangolare. Questa è un po' la mia preferita per il binocolo. Se fate un'avventura dove volete portarvi un binocolo per osservare gli uccellini o qualcosa, magari le turiste, vi mettete questa alla cintura e il binocolo rimane ben chiuso. Quando vi serve lo tirate fuori e avete risolto. Come al solito anche questa roly poly è disponibile in diversi colori, le trovate su backpack.it. Sul retro avete i soliti sistemi di fissaggio e quando avete fatto non dovete far altro che richiuderla bene qui sotto, chiudere un lembo, chiudere l'altro, iniziare l'arrotolamento. Ed è fatta. La metto da parte e vi mostro il modello più grande delle roly poly classiche. Questo è un modello che ha addirittura due maglie PAL, perché è un modello più grande, quindi diventerà più pesante, quindi va gestito meglio il carico. Lo apriamo di nuovo, si sdrotola in questo modo e come vedete ha una capienza abbastanza grande. Io ci porto i giocattoli alle nipotine, quindi ci va di tutto. Considerate che se lo legate in cintura ha addirittura una fascia cosciale per bloccare meglio il carico, altrimenti un oggetto così grande, così ingombrante e pesante vi darebbe fastidio. Mentre qui ci va una maschera integrale per la faccia o comunque ci vanno tante tante cose, ve lo bloccate alla coscia con questa fascia supplementare e avete una maggiore stabilità. Quando dovete richiuderlo, di nuovo accartocciate qui sotto, a seconda di quanto vi sentite ordinati, vi richiudete la fascia della coscia così e cominciate a rotolare il tutto. L'embo che chiudeva prima la tasca servirà anche per richiuderla in questo modo ripiegata. Avete sempre a disposizione gli elastici, ormai non ve lo dico più, il passante per il cinturone e la clip per agganciarla agli zaini. Non finisce qui, ne esiste un modello ancora più grande. Qui facciamo davvero sul serio e avete sempre la doppia fascia molle perché andiamo addirittura a mostrare il roly poly backpack. Questo diventa completamente uno zainetto, ci mettete dentro quello che volete, ha addirittura un po' più difficile da farvelo vedere forse ma c'è una tasca interna ad esempio per i documenti o qualcosa di simile. Ve lo sistemate come credete. Quando siete pronti tirate i due spallacci che fanno parte dello stesso sistema, lo indossate e magari potete lasciare al campo o in albergo lo zaino grande avendo sempre a disposizione un piccolo zainetto. Questo è comodo anche quando fate quei giri urbani e avete ad esempio i bambini vogliono comprare una cosa poi un'altra, spogliarsi, magari gli mettete addosso uno di questi o lo mettete voi, buttate tutto dentro e quando avete fatto poi lo ripiegate. Per ripiegarlo niente di più semplice, basta aprirlo così come l'ho aperto io e vi svelo un trucchetto con queste cose qui. Appena lo aprite a casa, ve lo guardate per bene, vi piace, lo ripiegate subito perché all'inizio sono tutti visibili i segni della piegatura e quindi non potete sbagliarvi. Se iniziate ad usarlo poi magari dovete chiamarmi e farvi spiegare come piegarlo. È già successo e vorrei non rifarlo mai più perché spiegare per telefono a qualcuno come piegare qualcosa è impossibile, vi sfido a provarci. Ogni roly poly ha un foro di drenaggio rinforzato perché se finite nel fiume, se vi si rompe la borraccia eccetera avete modo di far scolare giù il liquido e dicevamo ripieghiamo il nostro zainetto. Lo ripiego, lascio questo qui al centro lungo, ripiego quest'altro e inizio l'arrotolamento. Io sono anche abbastanza pessimo ma è un tessuto in nylon, questo un po' più leggero degli altri perché altrimenti peserebbe più lo zaino che il contenuto, non avrebbe alcun senso, ma una volta che siete arrivati qui vi tirate dentro questo e lo avete richiuso. Non c'è bisogno di essere super precisi, ce la possiamo fare anche così. Sono delle tasche comodissime, io le uso da sempre. Una delle tasche roly poly classiche, quelle più diffuse, è stata messa in palio da Backpack per l'iniziativa Wild Way Project Clean Woods. È un'iniziativa bellissima che hanno fatto i ragazzi della Wild Way Academy e prossimamente scoprirete sui loro canali come vincere una roly poly per raccogliere le cartacce in giro per il bosco, soprattutto la plastica. Anzi nell'ultima mia avventura ho trovato un cartellone, un'insegna, così nel bosco. Voglio sperare che sia stato un temporale, un colpo di vento, portarla lì e non qualcuno che deliberatamente ce l'ha buttata perché mi piangerebbe il cuore. Il bundle di questa settimana è particolare. Sapete che su backpack.it sono arrivati gli zainoni Rush 100 di 511. Questo adesso è tutto compatto perché viene dall'armadio, ma quando si compra uno zaino di questo tipo spesso le avventure sono più complicate, sono più avventurose. Quindi noi che promuoviamo la sicurezza per questa settimana vi regaliamo insieme ad un bellissimo Rush 100 Ranger Green una tasca FlexTac Med di primo soccorso. È un iFac, lo potete applicare all'esterno dello zaino, come vedete il colore è identico, è bellissimo così, e avere a disposizione tutto quello che vi serve per curare i traumi o delle ferite importanti. Più lo zaino è grande, più è opportuno che la dotazione di primo soccorso stia fuori allo zaino o in un posto davvero accessibile. Questa è una buona regola. Per ottenere in regalo una FlexTac Med Pouch dello stesso colore Ranger Green del Rush 100 che vedete qui, vi basta inserirli tutti e due nel carrello e vedrete sparire come per magia il costo dell'Attac Med Pouch. Parliamo sempre di una tasca che ha l'attacco Flex, quindi metterla o toglierla dallo zaino è un attimo, sarà un piacere. E ieri ragazzi era giovedì. Mi avete già visto giocare con questa penna, finalmente è arrivata la Vlad Rescue Pen di 511. È una penna particolare. Si apre e si chiude girandola, il meccanismo è abbastanza soddisfacente che lo farei tutti i giorni, e all'interno ha una cartuccia pressurizzata che vi permette di scrivere in tutte le angolazioni. Fin qui è un'ottima penna. È costruita in alluminio anodizzato nero e come vedete ha questo cappuccio che finisce un po' come la testa di un chiodo, spero si veda. Questa caratteristica è fondamentale nelle penne tattiche, proprio perché uno degli utilizzi possibili e mai augurabili è quello di utilizzarla per difesa. E allora se io avessi bisogno di prendere la mia penna, ora l'ho messa qui ma potrebbe essere benissimo nella tasca dei pantaloni, devo poterla estrarre con comodità. E questa testa di chiodo che ha un po' questa forma strana che vedete vi permette proprio di fare questo. La estraggo e immediatamente posso utilizzarla per difendermi. Anche la parte dove si poggia il pollice è comoda e antiscivolo. È un piacere averla in mano, è solida, è forte, vi dà sicurezza. Non finisce qui perché è una penna che potete decidere anche di portare in un altro modo. Valutate un po' voi le esigenze. Se l'esigenza più comune per voi è quella di scrivere, allora utilizzerete il lato della penna. Se invece siete persone che passano più tempo a spaccare i vetri, allora vi converrà tenerla dalla punta in carburo. Basta girarla e il cappuccio che è removibile lo avvito dall'altro lato, copro la penna e rimango con la punta in carburo. Anche qui se dovessi utilizzarla per rompere i finestrini funziona benissimo e è una punta utile per tirarvi fuori dai guai. Ecco perché si chiama Vlad la Rescue Pen, una penna da soccorso diciamo. Io di solito tengo la parte della penna, è quella che uso di più, la tengo così, poi se dovesse servire so che c'è una punta in carburo per l'eventualità. Oggi è anche il Black Friday e per tutta la giornata di oggi potrete portarvi a casa una tasca 9x6 di Five Eleven, è una tasca con il retro in flex, potete applicarla agli zaini, potete applicarla all'equipaggiamento e dicevo potete portarvela a casa con uno sconto del 20%. Vi basterà inserire il codice BLACKPACCO nel carrello e la troverete scontata del 20%. Ma oggi è anche patch edì! Il giorno in cui su BackPACCO spunta una nuova patch e potete prenderla per i vostri zaini, per il vostro equipaggiamento. Non vorrete perdervi quella di questo fine settimana. È la famosissima Look Skull di Maxpedition, è una patch in 3D, come vedete ne esiste una versione bianca e una versione che si illumina al buio o durante la notte. Sono entrambe bellissime in 3D, difficile farvelo vedere, ma hanno tutto un profilo 3D e l'occhio spunta e è inquietante, perché vediamo se riesco a fare il giochino. Ok, forse in telecamera si vede o forse no. Mentre vi muovete con il vostro zaino sembra che lo scheletro vi guardi più intensamente ed è un effetto davvero spaventoso. Quindi Look Skull di Maxpedition disponibile da oggi su BackPACCO.it E ora passiamo ai Rubber Ribs, la squadra competitiva di barbecue di BackPACCO. Questa settimana, e cioè già stasera, partiremo per la nostra prima grande gara. The War of Barbecue, la guerra dei barbecue. Siamo prontissimi, dobbiamo approntare gli ultimi zaini, le ultime cose. Io non credevo che per fare una gara di barbecue bisognasse portare tanta roba. Lo sto scoprendo. Per fortuna qui da BackPACCO gli zaini non mancano. Vi porterò con noi a Verona durante questa prima gara. Vi farò vedere cos'è una gara di barbecue. Che succede? Scopriremo come ci siamo organizzati. Dobbiamo fare una cottura che durerà tutta la notte di sabato. Quindi sarà un'avventura. Sarà davvero un'avventura. Voglio anche ringraziarvi per tutto il supporto che state dando alla squadra, per i messaggi che mi scrivete e ci incoraggiate. Faremo del nostro meglio, anche se ho visto iscriversi squadre davvero davvero forti. Sarà un bel weekend, molto faticoso. E sempre in ambito Rubber Ribs, devo ringraziare di cuore l'amico Vladimir della Pro Woodcut che ci ha regalato questo bellissimo tagliere. Mi avrete visto usarlo nel bosco questo fine settimana. Beh non è leggerissimo ma non avevo tanto da camminare. È bellissimo, è stupendo. Lo potrei accrezzare tutto il tempo. Vladimir è un artigiano talentuosissimo, fa dei taglieri spettacolari che renderanno sicuramente più belle le nostre preparazioni. Vi lascio il profilo di Vladimir in descrizione, se un altro dovete conoscerlo, dovete vedere che cosa è capace di fare. Grazie Vladimir, questo lo riteniamo un portafortuna e sarà sempre con noi alle gare. Pro Woodcut. E rimanendo in zona amici di Backpack, ho qui il nuovo disegno di Tommaso. Tommaso Scandola, lo sapete, ormai lo conoscete tutti, è il nostro artista di riferimento per i Letterman. Sta facendo dei lavori bellissimi. Ecco qui il Free P4, uno dei miei modelli preferiti. Proprio adesso, mentre parlavo, mentre sistemavo un po' il bancone, usavo il Free P2, che è quello che poi porto tutti i giorni in tasca. Tommaso ha riprodotto il Free P4, un po' più completo, un po' più difficile. Ha fatto un lavoro bellissimo, ma non sono ancora pronto a dirvi cosa ne sarà di queste illustrazioni. Dovete portare un po' di pazienza, però come facevo a non farvele vedere. Tommaso Scandola, artista, grazie infinite. Vi lascio il suo profilo in descrizione, così potete seguire i suoi lavori. E prima di salutarvi, un altro progetto a cui tengo tantissimo. Daniele Manno, della Ultra Survival and Rescue, amico di Backpack e amico mio, chiaro, è famoso per i suoi corsi di formazione nel primo soccorso in zone remote. Da un po' di tempo ha aggiunto al catalogo dei corsi che organizza e tiene un altro corso un po' speciale, dove si impara a far fronte alle necessità di primo soccorso verso i nostri animaletti, cani, gatti, pelosettivari, che vogliamo aiutare nei momenti di difficoltà. È un corso che mi è piaciuto da subito e il 3 di luglio avrò la possibilità di seguire una delle sue classi. Vi porterò con noi per vedere cosa si fa ad un corso di questo tipo e capire quanto è importante riuscire a reagire ai problemi che possono avere i nostri animali. Quindi seguirò le lezioni di Daniele il 3 luglio e vi invito a partecipare. Prometto che troverete anche qualcosina di Backpack con cui giocare. Bene, come al solito grazie per essere stati con me, grazie perché preferite Backpacko. Vi ricordo soltanto che se non volete perdervi le prossime puntate del Barpacco o i nuovi video di Backpacko, vi basta iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e riceverete un avviso ogni volta che è pronto un nuovo video. Alla prossima!